Ragazzi siamo qua con Olga, Olga molto sincera, e l'avevi detto perché non fare un topic un po' porno. Tu sei un po'... tu un po' a letto sei un po' porca, sì. Cioè sei un po'... cioè come sono le Russe? Se faccio questa impressione... No, no, te l'ho chiesto apposta. Cioè sei una comunque che... cioè le Russe come sono a letto? Perché hanno la fama, come le tedesche, di essere molto fredde. Ah sì? Sì, però io ho avuto una ragazza tedesca, non era per niente così, anzi. Sì, le Russe come sono? Cioè tu a letto come sei? Sei una focosa? Sei una focosa o sei tipo... No, a me piace il sesso, sì, mi piace. Ok. Quindi non credo di essere così, anche se qualche volta mi è capitato di essere o così, troppo stanca o proprio non interessata. Ok. Capita. Ok. Quali sono secondo te gli errori che un ragazzo commette quando vuole dare piacere orale ad una ragazza? Quindi in culo io il primo e non farlo. Perché non tutti lo fanno, quindi io il primo errore è non farlo. Allora, errori... io appunto ho fatto un piccolo elenco. Donna. Sì, però ho fatto un elenco più generico, sì, degli errori che fanno... che fate voi uomini. Sì, appunto del sesso orale c'era... aspetta. Vabbè, vado un po'... Allora, te ne dico uno io subito. Sì. Che per primo devi farlo, chiaramente. Il secondo... Non usare le dita. Cioè, o usano le lingue o le dita o l'uno o l'altro, cioè non insieme. No, no, scusami, ci sta... Anzi, ci sono le ragazze, io ho compresa che non mi piace troppa penetrazione. Nel mentre? All'inizio, poi magari dopo, sì. No, no, ma io parlo... cioè, quando ti sta... quindi poi uno va a gusti, però il fare solo di lingua non è sbagliato? No, no, no. Ok, ti piace? Sì. Ok, non è un errore, ragazzi, è un errore solo in Italia. In Russia no, va bene, ok, è soggettivo. Allora, un errore? Un errore di chiedere, insistere, anche se capisco bene, perché di fare la doccia. Cioè, tipo, te lo faccio, ma prima vai a fare la doccia con candeggina, cavoli vari, altrimenti non lo faccio. Cioè, fa pensare che, oh Dio mio, ti faccio schifo. Cioè, da un lato sì, capisco. Se magari una ragazza tutto il giorno ha lavorato al bar, ha sudato, è giusto di fare il bidet. Ma insistere... Io non ho altra cosa, ti dico, ma in Russia così si fa, no? Non lo so, non parlo di tutte le situazioni. Ma anche con l'Italia, hai avuto situazioni in Italia per cui ti chiedevano di andare in doccia prima? No, no. Però stavo pensando se uno mi dice, Olga, vai a fare la doccia con il tono come io fosse una sporca, mi toglie la voglia. Ok, che cosa hanno fatto però con te che dici, no, non mi piace? Ma non hanno fatto la barba. Ah, ok, ok. Sì, la ragazza di solito, quando aspetta una visita galante, va a fare la ceretta. Ok. Quindi è tutta liscia, molto delicata. Il ragazzo non sa com'è questa sensazione di sentire sulla parte intima una, come si chiama? Pugge, sì, una barba. Sì, sì, poi se strofina ancora peggio. Ok, ragazzi, strofate. Poi non tutta la barba, cioè alcuni ragazzi hanno i capelli morbidi, anche la barba morbida, va bene, va bene. Alcuni invece hanno questa specie di setole brutte. Sì, sì. Fa me sentire la tua. Io e me sono dure. Ok, non posso leccarti la fagiana in queste ore. Mi ha pazienza, Olga. Altro punto? Vabbè, sarà una cosa banale, essere troppo aggressivo, masticare, sì. Masticare? Masticare, sì. È una cosa bruttissima. Meno fa e meglio è, secondo me. Essere unti? Unti? No. Ma la lubrificazione fa bene. Ah, ok. Ma essere unti, ma io non ho già fatto qualcosa. Ho mangiato una focaccia prima, ho fatto... Ok, no, no. No. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, parlando di masticare. Sì, i denti. Se avete dei dubbi, meno di no. Anche però per voi, perché ho avuto donne, una ragazza spagnola che mi ha piaciuto, cioè sembrava che mangiasse il cornetto. Io gli ho detto, guarda che non è un cornetto, cioè non c'è la panna. No. No, non mordere, non usare i denti. Sì, anche per le donne, così. Ok, io vorrei che questi momenti non finissero mai, Olga. Io vorrei, ti giuro che questi momenti non finissero mai. Allora, ci vediamo. La rivolete qua, Olga? Fateci un cenno. A me è simpatica, vi dico, perché è talmente buffa e curiosa e sincera che non puoi non amarla. Come me, no? Cioè, io sono sincero, come fate a non amarmi? È impossibile, no? Bene. La tua posizione preferita o Roma è indovino? Aspetta, la scrivo qua. Magari no, eh? Magari sei strana anche lì. Però secondo me è questa. Pronta? No, 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 non c'entra. Forse è sbagliato il carattere. No. Te l'ho indigito io, lei. Eh no. No, non ho capito, allora aspetta. A 90, oh, che avresti saluto. Va bene. Ma cosa vuol dire? Aspetta, aspetta, questo mi interessa. Lo provo? Com'è, scusami, ma? Questo? Ah. Cerchiamoglielo in russo, ragazzi. Ho visto, sì, mozi, sì. Terzo posto, diciamo. Ah, terzo posto? Sì. Mm-hmm. Ragazzi, allora, scrivete, scrivete secondo voi qual è la posizione di metà di orgo. Adesso vediamo in russo come si dice. Non suona molto bene in russo, appunto. Ecco, ora. No, aspetta, scusami. Ok. Ah, zah. Giusto? Sembra, sembra un insulto. Ah, zah. Ah, zah. Perfetto, ragazzi. Adios.